Salve a tutti, sono in compagnia del bronzo mondiale Daniela Raia che oggi ha riconfermato il titolo italiano junior S a Genova. La gara è andata bene, come hai preparato questo campione italiano? Con molto lavoro ho dovuto introdurre anche i pesi per aumentare un po' la mia forte però ho dovuto fare l'ultimo mese perché non sono stato bene, ho avuto un fortuna che ho avuto la mano. Da la gara all'indiano sono tornata e ho iniziato due volte. Raccontami una curiosità che ho visto molto molto determinata, come ti approcci mentalmente a una competizione? Io quando sono in gara penso, non penso se posso vincere lo devo perdere, penso che devo fare il massimo, tutto quello che so fare e se perde deve essere perché sono più brava e la mia faccianza deve dimenticare più però, deve sempre sperare di non prendermi. Brava, complimenti, mi piace molto questo approccio, sei una studentessa del... Linguistico. Linguistico, bene, allora in bocca al lupo per gli appuntamenti in campo internazionale che cominceranno a breve e come di consueto noi teniamo le nostre interviste con il nostro motto che facciamo insieme. Tanti aggiungo. 3 Tanti gio Alla 30 5 45 6 7 Henri